La lezione di oggi sarà su Ludwig Feuerbach. Feuerbach è considerato uno dei maggiori esponenti della sinistra hegeliana, cioè di quella corrente di pensiero che, ispirandosi all'opera di Hegel, ne dà una interpretazione atea dal punto di vista religioso e rivoluzionaria dal punto di vista politico. Feuerbach è noto soprattutto per la sua interpretazione della religione e la sua opera principale, pubblicata nel 1841, si intitola L'essenza del cristianesimo. Questo autore, dopo aver conseguito la laurea della Università di Arlangen, insegnerà per un breve periodo in questa stessa università, ma sarà costretto di lì a poco a rinunciare alla libera docenza perché aveva espresso pubblicamente negli scritti l'opinione in base alla quale l'anima è mortale. In un clima reazionario come era quello dell'Europa all'indomani della restaurazione, dichiararsi apertamente atei o sostenere la dottrina della mortalità dell'anima poteva costare la carriera agli intellettuali, cosa che avvenne nel caso di Feuerbach. Ma Feuerbach ebbe l'avventura di sposare una donna abbastanza ricca che finché la fabbrica di ceramiche di cui la moglie era contitolare andò bene, gli permise di vivere agiatamente, di dedicarsi a tempo pieno alle sue opere. Quando la fabbrica fallì, egli e la famiglia dovessero ritirarsi in una piccola cittadina e vivere praticamente in miseria. Ma entriamo un po' nelle linee generali del pensiero di Feuerbach che, come abbiamo detto poco fa, riguarda l'interpretazione della religione. Feuerbach diceva che l'antropologia è il segreto della teologia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la religione è un prodotto della fantasia, dei bisogni, dei desideri degli uomini e che quindi Dio è sostanzialmente un prodotto della cultura umana, è un prodotto dell'uomo. Occorre perciò conoscere l'uomo, occorre perciò studiare l'uomo, appunto l'antropologia, per conoscere i segreti della teologia, cioè per interpretare correttamente la religione e i motivi per cui a un certo punto gli uomini si inventano le religioni. Dunque Feuerbach è senz'altro un pensatore ateo, in quanto non crede che ci sia un essere supremo che sia il creatore del mondo e degli uomini, ma al contrario pensa che gli uomini elaborino, diciamo così, le religioni per soddisfare i loro desideri, per soddisfare le loro aspirazioni. La religione non è tuttavia un prodotto superfluo della cultura umana, ma in un certo senso essa svolge una funzione positiva fino a un certo punto naturalmente che è quella di far sì che gli uomini prendano piena consapevolezza delle loro capacità, delle loro migliori qualità e delle loro aspirazioni. Tuttavia la religione va superata, cioè l'uomo deve rendersi consapevole che essa è un prodotto umano allo scopo di realizzare pienamente l'umanità che è in ciascuno di noi, allo scopo di realizzare la società dell'avvenire, nella quale quelle qualità che gli uomini hanno proiettato al di fuori di loro in un essere fantastico, in un essere che non esiste, vengono in un certo senso, ritornino in un certo senso all'uomo, vengano riprese indietro dall'uomo e l'uomo le possa in un certo senso esplicare insieme agli altri uomini attraverso la collaborazione con gli altri uomini per fondare una società nuova, una società rinnovata, una società che sia veramente fondata sulla giustizia, sull'eguaglianza e che assicuri agli uomini una vita dignitosa e felice. Questa è nelle linee generali la filosofia di Feuerbach e soprattutto la morale di questo pensatore, morale atea, anzi dobbiamo aggiungere che per Feuerbach l'ateismo è addirittura un dovere morale, è un dovere morale nel senso che la consapevolezza dell'essenza della religione, la consapevolezza che le religioni sono un prodotto umano, costituisce il presupposto affinché l'umanità possa evolversi, possa progredire e possa realizzare quegli ideali effettivi di eguaglianza e di giustizia a cui essa aspira. Ma vediamo un pochino di di entrare nei particolari di questo ragionamento o perlomeno di dare a questa tesi una certa articolazione. Abbiamo detto che Feuerbach è convinto che la religione sia un prodotto dell'uomo e egli è convinto perché ha studiato Hegel, è un hegeliano e in modo particolare è Hegel che in un certo senso gli suggerisce questa sua tesi. Che cosa aveva detto Hegel a proposito dell'oggetto, a proposito degli oggetti che costituiscono appunto il risultato del lavoro umano? Bene, quegli oggetti non sono altro che la estrinsecazione del soggetto. Quando io costruisco qualche cosa con le mie mani, quando io produco uno strumento utile alla vita, quando io insieme a tutti gli altri costruisco la mia società, il mio ambiente, non faccio altro che estrinsecare la mia stessa essenza umana, in quanto l'uomo è tale in quanto è produttore dei propri mezzi di sopravvivenza, non li trova in natura come gli animali ma li produce lui stesso e producendo attraverso il lavoro i suoi mezzi di sopravvivenza, producendo, modificando l'ambiente in cui vive, egli in un certo senso estrinseca la propria essenza umana. Quindi il mondo che gli uomini costruiscono, il mondo sociale, il mondo politico, il mondo urbano che essi costruiscono, le modifiche che essi apportano alla natura, sono sostanzialmente modifiche che testimoniano della più profonda essenza dell'uomo che è quella appunto di realizzare se stesso negli oggetti, di realizzare se stesso nel lavoro e di comprendere che l'oggetto non è niente altro che appunto una manifestazione del soggetto, una manifestazione dell'uomo. Questo ragionamento hegeliano viene applicato da Feuerbach alla religione e cioè come ogni oggetto è, costituisce, diciamo così, una estrinsecazione dell'attività umana, dell'attività del soggetto, anche Dio non è altro che una estrinsecazione della attività, della fantasia, dei bisogni, dei desideri, delle aspirazioni umane. Quindi gli uomini in un certo senso inventano Dio, si formano nella loro fantasia questo oggetto e attribuiscono però a questo oggetto il carattere dell'esistenza attraverso un processo di alienazione. Ecco un'altra parola che Feuerbach riprende da Hegel e che è un concetto chiave che verrà poi utilizzato anche da Carlo Marx, l'alienazione non è altro che la estrinsecazione delle migliori qualità umane e la loro oggettivazione in un ente che è estraneo, che viene sentito come estraneo, come lontano dall'uomo stesso ma come creatore dell'uomo e questo è l'errore. L'errore, la inconsapevolezza in cui l'uomo religioso ancora permane è quella appunto per la quale egli non si rende conto che Dio è una sua creazione e non il contrario. Non è Dio che crea l'uomo ma è l'uomo che crea Dio perché ne ha bisogno. Quindi il bisogno dell'uomo sono i desideri umani, sono le aspirazioni umane che in un certo senso inducono gli uomini, inducono l'umanità a creare delle religioni che servano sostanzialmente a soddisfare questi bisogni, che l'uomo con le sue forze limitate non potrebbe soddisfare. Quindi egli deve in un certo senso illudersi, illudersi che esista un Dio in grado di soddisfare i suoi desideri illimitati, i suoi desideri infiniti, perché egli è perfettamente consapevole che l'uomo è troppo debole per poter realizzare le sue aspirazioni. Facciamo l'esempio del desiderio di eternità. Gli uomini non vorrebbero mai morire, gli uomini aspirano a una felicità assoluta, non vorrebbero mai soffrire, ma naturalmente né l'eternità né l'assenza completa di sofferenza è il loro potere, perché noi siamo limitati e di conseguenza c'è questo meccanismo psicologico inconsapevole per cui gli uomini si inventano un essere il quale essendo infinito, essendo onnipotente, può realizzare i desideri umani, può realizzare le aspirazioni degli uomini a condizione naturalmente che essi si assoggettino a questo essere, a condizione che essi obbediscano a Dio e quindi agiscano in base alla sua volontà. Questo meccanismo dunque è all'origine della religione e costituisce appunto la spiegazione che Feuerbach dà della formazione delle varie religioni, quindi anche del cristianesimo e naturalmente Feuerbach non si limita a fornire questa interpretazione della religione, ma afferma anche la necessità di andare oltre, e quindi la necessità di superare la religione, cioè di rendersi conto attraverso la filosofia, attraverso la filosofia dell'avvenire, ecco questo è il titolo di un'altra opera importante di Feuerbach che egli scriverà qualche anno dopo la pubblicazione dell'essenza del cristianesimo, la filosofia dell'avvenire che deve appunto portare gli uomini a superare il pregiudizio della religione, quindi il pregiudizio della credenza in un essere eterno, immortale, immutabile, potente, anzi onnipotente, onnisciente, eccetera eccetera, a cui essi si sottomettono per ottenere una sorta di consolazione o per ottenere la speranza in una vita eterna, in una felicità eterna. Dunque in questo senso Feuerbach dice che l'ateismo è un dovere morale, ci si deve sostanzialmente riappropriare di tutte quelle qualità che gli uomini hanno alienato nell'essere supremo, Dio. La bontà infinita che noi attribuiamo a Dio, la volontà infinita che noi attribuiamo a Dio, la potenza infinita che noi attribuiamo a Dio non sono altro che qualità umane elevate all'infinito che noi dobbiamo, di cui noi dobbiamo riappropriarci, cioè noi dobbiamo rientrare dall'alienazione, dobbiamo avere consapevolezza che gli uomini, l'umanità, gli uomini che collaborano tra di loro hanno tutti insieme come specie umana queste potenzialità, queste qualità e quindi la speranza di Feuerbach che attraverso l'amore universale, attraverso la collaborazione, attraverso la solidarietà si possa creare in terra quel paradiso che gli uomini immaginano in un al di là illusorio in questo senso quindi Feuerbach dice che l'ateismo è un dovere morale perché finché noi non ci rendiamo conto che quelle qualità ci appartengono cioè la bontà, la volontà, la forza, la potenza ci appartengono e noi non possiamo evidentemente aspirare a creare una società migliore in terra perché avremo sempre molta poca fiducia nelle possibilità umane ci sentiremo sempre peccatori, ci sentiremo sempre limitati ci sentiremo sempre in un certo senso alla merce di una divinità che impone la sua volontà e che ci ricompenserà non in questa vita ma in una vita futura dandoci la vita eterna, dandoci una felicità che naturalmente per Feuerbach è illusoria sempre rimandata al di là della vita e che invece, a cui invece l'uomo deve aspirare in questa vita attraverso, ripeto, l'amore attraverso l'amore, quindi la filosofia di Feuerbach oltre ad essere una filosofia atea è anche una filosofia filantropica quindi lo scopo della riflessione di Feuerbach è quello di fare un'iniezione di fiducia negli uomini di far sì che gli uomini abbiano fiducia nelle loro migliori qualità e non si scoraggino di fronte al compito di realizzare una società più equa una società più giusta una società in cui la felicità non sia sempre, come dire, rimandata in un al di là illusorio ma sia alla portata dell'operare stesso degli uomini la filosofia di Feuerbach è anche indubbiamente una filosofia materialistica nel senso che Feuerbach pensa che, diciamo così, non esista prima lo spirito e poi i corpi materiali come pensava la religione Dio è spirito e lo spirito di Dio crea il mondo, il mondo materiale come pensava lo stesso Hegel Hegel nella sua filosofia mette prima l'idea e poi il mondo della natura la natura materiale non è altro che una estrinsecazione della idea per Feuerbach invece viene prima l'uomo, concreto, materiale viene prima la natura e poi tutte le produzioni spirituali dell'uomo quindi la religione quindi la cultura quindi tutto ciò che rientra nell'ambito dello spirito della idealità per questo una delle frasi più famose di Feuerbach che viene spesso citata è l'uomo è ciò che mangia cioè per comprendere l'uomo bisogna prima comprendere i suoi bisogni concreti bisogna comprendere l'uomo come un essere innanzitutto materiale che ha dei bisogni materiali e quindi deve mangiare deve nutrirsi deve soddisfare le necessità quotidiane della vita e poi può pensare diciamo così alla sua educazione può pensare a aspirare a un mondo migliore può pensare alla sua formazione etica e alla come dire alla risoluzione insieme agli altri dei problemi ma anche materiali che affliggono l'umanità e quindi Feuerbach è un definito un pensatore materialista in questo senso nel senso che appunto viene viene prima l'uomo concreto l'uomo in carne ed ossa viene prima il cervello e poi le idee che il cervello può partorire non il contrario viene prima la materia la materia vivente no? e poi tutte le produzioni spirituali della degli esseri viventi spero di aver dato un quadro abbastanza comprensibile delle linee generali del pensiero di questo autore e vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento